La nostra previsione era verso fine anno, però attenzione perché vuol dire che abbiamo toccato il fondo, perché siamo 9 punti sotto il PIL del 2007 e quindi siamo veramente sul fondo, un minimo di ripresa la vedremo penso automaticamente, però non è quella che basta per il nostro paese per ritrovare la capacità di creare occupazione.